ed ecco ragazzi che sono qui a casa che sto pulendo il modellino del titanic interamente il legno questo l'ho preso su ebay guardate qui qui si è spezzato un po' e c'è comunque parecchi anni che ce l'ho qui c'è la dark tutto fatto interamente nel legno e dipinto a mano guardate qui le eliche ed eccolo qua dove l'ho posizionato sulla mentora qui sopra al quadro ecco qua il figato a fianco al titanic ho messo il lego e niente ragazzi che ti piace commentate iscrivetevi al canale come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao 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 ciao